E' rieccoci, benvenuti, benvenuti e ben trovati Nell'ultima puntata di Sport Inside Il consueto focus a 360 gradi su tutte le discipline sportive lucane Sui maggiori protagonisti dello sport della Basilicata Vi avevamo promesso una chiusura con il botto Allora se nel corso della prima stagione di Sport Inside Abbiamo chiuso proprio con il calciatore potentino E ovviamente lucano di Serie B Antonello Giosa Quest'oggi chiudiamo con un altro massimo esponente Del movimento calcistico lucano Pensate più di 300 presenze da calciatore di queste Più di 230 tra i professionisti E' diventato campione delle universiadi con la nazionale italiana Con gli azzurri E questo è un tema caldo in questo periodo E poi ha staccato anche il pass per la semifinale di Team Cup Contro il Milan con l'approdo alla scala del calcio E' arrivato anche ai playoff con il suo club L'Alessandria Ed ora invece è approdato sempre in Lega Pro al Catanzaro E se tre indizi fanno una prova sarete già risaliti All'identikit del calciatore classe 87 Roberto Sabato Benvenuto Roberto a Sport Inside Buonasera a tutti Mi fa molto piacere essere qua con voi Allora prima di stuzzicare il nostro graditissimo ospite Per chiudere con i fuochi di artificio La nostra seconda stagione del nostro consueto focus Sulle maggiori realtà della nostra regione Andiamo proprio a rivivere quella bellissima esperienza Che è per culminata con la loro mondiale Delle universiadi della nazionale italiana di calcio Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Quando è arrivata la chiamata della Nazionale Azzurra cosa hai provato? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per sentito dire, anche perché il livello era molto alto. C'erano ragazzi di Serie B e Lega Pro, quindi la sensazione di poter far bene, di poter ottenere qualcosa di storico c'era fra di noi. E in fin dei conti è stata così. di cantare l'inno di cantare l'inno nazionale, magari schierato in fila con gli altri compagni. Allora, allora, te lo chiedo, cosa si prova quando si sentono suonare le note dell'inno nazionale. No, su questo, guarda, ti devo contraddelle, ma, guarda, su questo, guarda, ti devo contraddire, perché purtroppo mi aspettavo anche io di sentir l'inno, ma invece l'inno nazionale, ma invece l'ingorea ci hanno un po' tolto questa piccola emozione, perché praticamente hanno messo per tutte le nazionali un inno base della manifestazione e quindi non hanno... l'abbiamo fatto noi di testa nostra, ecco, però è stato comunque bello ed emozionante. Mi hanno infranto un sogno, praticamente sì, credo a tutte le nazionali, quindi è stata così. Senti, invece la gara di esordio, che emozione ti ha dato? Tu sei abituato comunque ad aver calcato campi importantissimi, però giocare in quel tipo di competizione, in quel tipo di cornice, qual è stato appunto l'approccio nella gara di esordio? La gara di esordio mi aspettavo molto più difficile, invece abbiamo beccato una nazionale, comunque dal punto di vista calcistico, secondo me, ancora un po' indietro, che era il Canada, quindi è stata anche facile per noi partire subito forte e fare una bella gara. Poi già dalla seconda e terza partita è stato già molto più difficile, infatti abbiamo iniziato a perdere qualche punticino. Ecco, proprio il girone, cerchiamo un attimo di ripercorrere la cronologia degli eventi che poi vi ha portato all'ultimo atto, quello della finale. Dopo il Canada, che avete affrontato nel girone? Abbiamo affrontato Cina-Taipei e Corea. Prima la Corea, che abbiamo subito una sconfitta, anche perché il livello era molto buono dei coreani. Correvano molto e anche tecnicamente erano molto bravi e hanno meritato, devo essere sincero. Poi Cina-Taipei abbiamo trovato una nazionale tutta roccata dietro e abbiamo faticato a fargli gol, però è finita 0-0 ed è stato per noi il passaggio del turno matematico. Ecco là, staccate il pass per le fasi finali. Chi incontrate nei turni successivi? Abbiamo incontrato subito l'Irlanda, che è stata una partita dura perché c'erano comunque in tutte le partite più di 40 gradi, umidità, e abbiamo faticato un po', anche perché comunque la stanchezza si iniziava a sentire. Però per fortuna siamo riusciti a sbloccarla e non c'è stato nessun pericolo anche da parte degli irlandesi. Poi dopo chi avete incontrato? Dopo in semifinale c'è stato il Giappone, che è stata forse la partita più difficile, dove non meritavamo del tutto, però siamo stati tenaci, abbiamo tenuto duro e ai rigori ce l'abbiamo fatta. Per fortuna, anche perché si era sofferto tanto durante la partita e secondo me insieme alla Corea erano le due squadre palpabili per la vittoria. Ecco, si è assottigliato un po', Roberto, il gap che vedeva magari le nazionali europee rispetto a quelle del resto del mondo, magari più a livello asiatico? Credo che sia di un buon livello, anzi, da alcuni punti di vista sicuramente ci hanno superato e raggiunto, perché dal punto di vista atletico e tecnico sono molto all'avanguardia. L'unica cosa è che sono rispetto a noi forse poco concreti al calcio europeo, però ho trovato veramente tante difficoltà e non pensavo, soprattutto, come ho detto, con Giappone e Corea. Poi le altre nazionali, a parte Francia e Brasile, che sono del nostro livello, le altre non ho trovato un gran che, sinceramente. L'unica sconfitta dunque con la Corea nei gironi, ma poi gli avete preso le misure e il riscatto è arrivato proprio in finale. Sì, infatti è stata una piccola rivincita, li aspettavamo lì col coltello fra i denti. Per fortuna è andata bene, anche perché la partita si è messa in discesa da subito con un'espulsione per loro. Poi noi c'eravamo, quindi in qualche modo l'avremmo portata a casa lo stesso, anche 11 contro 11, non ce n'era per loro. Infatti un 3 a 0 che non ha messo repliche. Allora qui ti chiedo che gioia è stata. No, è stata un'emozione immensa, anche perché inseguivo, da quando sono arrivato lì, quel sogno di portare a casa una medaglia d'oro. Poi vederla con i miei occhi è stato fantastico, anche perché fino al giorno prima l'avevo solo vista da qualche atleta lì nel villaggio oppure in tv. E vederla lì da vicino al mio collo è stata un'emozione immensa, spettacolare. Riguardandoti alle spalle, proprio alla luce di queste sensazioni, che tipo di esperienza è stata in Toto a 360 gradi per stilare appunto un bilancio di questa bellissima e trionfale avventura? È stata un'esperienza credo unica, perché mi ha segnato molto anche dal punto di vista del vivere il calcio qua in Italia, perché lì è stata un'esperienza dove ho vissuto a 360 gradi lo sport, più che il calcio. È stata una festa dove abbiamo socializzato molto con altri ragazzi di tutte le nazioni e inoltre per noi è stata vissuta come una festa vera e propria, anche perché abbiamo scherzato, si rideva con tutti dal primo all'ultimo minuto. La cosa più bella è stata questa, che non c'era proprio nessuna pressione, a differenza di quando si vive il calcio qua in Italia. Forse è stato anche quello che ci ha dato qualcosina in più. Oltre a confrontarti, intanto chiediamo alla regia di farla rivedere la nostra protagonista assoluta, la medaglia d'oro vinta dalla nazionale italiana del nostro Roberto Sabato. Oltre il confrontarsi a livello calcistico, tecnico, tattico con altre nazionali in un contesto nuovo, in un contesto diverso, è stata un'esperienza formante proprio a livello di vita fuori dal campo. Quello che ti chiedo è il confrontarsi con la mentalità di altre persone che vengono da tutte le zone del mondo. Ha cresciuto il tuo bagaglio di esperienza? Quello certamente, anche perché era la mia prima esperienza fuori dall'Italia a livello agonistico. Mi ha segnato molto perché ho imparato innanzitutto a socializzare con diverse culture, con diversi paesi e poi mi ha segnato, come ti ho già detto, a livello proprio umano, di come vivere lo sport, come dovrebbe essere vissuto, cosa che da noi qui è poco praticata sinceramente. Mi spiace perché potrebbe delle volte darti qualcosa in più ed essere più sereno anziché creare problemi o alimentare cose negative che fanno solo male allo sport e al calcio. E' importanti i punti di riflessione offerti anche dal nostro Roberto Sabato. Le soddisfazioni, l'abbiamo detto, sono continuate anche al ritorno in Italia con la premiazione. Avete fatto visita alle istituzioni su tutte, alle federazioni, anche con siete stati ricevuti dal presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Sì, ci hanno ricevuto lì a Roma ed è stato bello, è stata una bella emozione perché sono stati fatti dei bei discorsi e c'è stata una bella premiazione lì proprio in FIGC. Mai mi sarei aspettato di arrivare fino lì, quindi è stato il top per noi tutti, comunque universitari, nel nostro piccolo, riuscire a raggiungere un traguardo così importante. Com'è il presidente Tavecchio? È ruspante come appare? Alla mano? Sì, è una persona molto alla mano, anzi forse anche troppo per il ruolo che detiene. E allora abbiamo cercato di ripercorrere insieme a voi la cronologia degli eventi, della bellissima esperienza in Corea del Sud che ha portato al successo della nostra nazionale in ambito delle università. Ora invece proviamo a tuffarci e vivere con la nostra DeLorean il viaggio temporale, l'escursus della lunghissima e prestigiosa carriera del nostro Roberto Sabato. E a riguardo, per introdurre proprio il nostro argomento, abbiamo scovato, grazie all'interminabile lavoro della nostra redazione, due bellissime chicche che sicuramente faranno piacere al nostro Roberto. E a riguardo, abbiamo scovato, grazie a tutti. E a riguardo, abbiamo scovato, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le due sassate mancine al tritolo di Roberto Sabato quando vestiva la maglia del Ravenna. Certo Roberto, tu sei un difensore quindi non sei chiamato a segnare, però quando segni li fai davvero da stropicciarsi gli occhi. Sì, non è che vado molto in avanti, però mi è capitato spesso di fare gol con dei tiri da lontano, anche perché parecchi mister mi hanno sempre dedicato alla fase difensiva anche durante gli angoli o punizioni. Mi dedico, c'era un mister che mi ricorda Ravenna, mi diceva sempre simpaticamente, Roby tu devi portare l'acqua, tu devi stare dietro. E quindi è un po', mi dispiace un po', però quando c'è la possibilità ci provo volentieri. E l'abbiamo davvero apprezzati i gol di Roberto Sabato. Senti Roberto, partiamo ovviamente dai primi passi della tua prestigiosa carriera, come abbiamo detto fin qui, ovviamente dal legame con la tua terra. Tu sei Lucano, sei di Avigliano, qual è appunto il tuo rapporto con questa terra? Io sono legatissimo a questa terra e lo si sente anche dall'accento, nonostante siano passati quasi 15 anni da quando sono andato via di casa, però sono rimasto molto legato anche perché ho tutti i miei affetti, tutti i miei amici qui. Poi la mia area, il mio cibo, la mia terra, quindi non me li può togliere nessuno e mai me li toglieranno. Quindi appena posso rientro e con l'occasione adesso che ho firmato a Catanzaro sono a maggior ragione più felice perché ogni tanto posso tornare qui a mangiare magari la domenica dai nonni o in famiglia e stare sereno e vivere la mia terra a 360 gradi. È un grandissimo legame con la sua terra, quindi da Lucano, orgoglioso, magari anche un po' testardo come tutto il popolo della Basilicata. Tu ti sei formato calcisticamente ovviamente qui in Basilicata a Davigliano, poi per volare davvero giovanissimo verso l'Interregionale con le prime esperienze in Serie D. Sì, sono partito giovanissimo da Davigliano, ho fatto le trafile fino agli allievi, poi ho avuto la fortuna di fare qualche provino nei dintorni che mi hanno portato in prova fino a San Lazzaro dove sono riuscito a fare la Juniores a quei tempi e a passare subito in prima squadra in Serie D. Quindi ho fatto un po' di gavetta che mi ha tolto qualcosa a livello economico, però mi ha dato molto a livello caratteriale, a livello di giocatore umano. Anche perché avendo mio fratello che già all'epoca cavalcava a cambi di Serie A e Serie B, forse qualche possibilità ci sarebbe anche stata di poter andare a seguire lui in qualche squadra blasonata come Cagliari, Catania, però ho accettato questa sfida con me stesso e alla fine ne è valsa la pena, sinceramente. Ci ha fornito l'assist col suo bel mancino Roberto Sabato per parlare proprio di suo fratello che vestiva la maglia del Pavia, poi è passato alla maceratese di Mr. Bucchi arrivando anche ai playoff. Ecco, ci sono già pochissime possibilità per un ragazzo di approdare tra i professionisti, voi due fratelli siete riusciti entrambe a farcela. Qual è stata la difficoltà o quali sono stati le virtù e i valori di entrambi? Ma sicuramente io essendo partito dopo Rocco mi ha aiutato tanto perché vedere un ragazzo come Rocco che è partito da Avigliano e non aveva veramente nulla perché mi ricordo che c'era poco o niente arrivare fino in Serie A ma mi ha dato tanta forza e c'è stata sempre la voglia di poterlo quantomeno eguagliare. Però è stato un esempio perfetto per me e per tutta la famiglia. Sinceramente anche quando sono stato lontano da casa mi ha dato tanti consigli e mi ha aiutato anche nei momenti di difficoltà e questo sicuramente ha influito molto. Ecco Roberto, poi abbiamo detto i primi passaggi in Serie D, due stagioni poi l'approdo, la prima stagione nei professionisti con il pizzighettone, pardon, e poi consacrato ovviamente con la maglia del Ravenna. Sì, sono passato, ho fatto ancora qualche anno di D e poi ho avuto la fortuna di conoscere un mister Zanongelli, ex giocatore del Milan, che mi ha un po' fatto da chioccia, da babbo, mi ha dato una grossa mano per iniziare il mio cammino nei professionisti. Anche lì a pizzighettone è stata forse la prima annata un po' difficile perché eravamo una squadra giovanissima e non è andata benissimo la stagione, però è stata una buona, mi ha formato molto personalmente come esperienza. E da lì poi ho iniziato a navigare da solo con le mie gambe, a iniziare a capire come andava affrontata questa esperienza a livello calcistico nei professionisti. Hai dato filo da torcere agli allenatori a quell'età perché mi spiegavi pure a telecamera e spente che eri anche un po' fumantino quando eri ragazzo, sei tuttora ragazzo classe 87, giovanissimo il nostro Roberto. Sì, adesso mi sono calmato molto rispetto agli inizi, però ero uno che dava tutto, ma non me ne fregava sinceramente del pensiero di quello che dicevano gli altri, ma deve essere così. E poi ero anche molto in gambo, ero molto irruendo, molto istintivo, cosa che poi con gli anni si migliora, si cresce. Mi piacerebbe tornare indietro sinceramente ogni tanto, però è anche giusto che si cresca e si hanno dei miglioramenti, altrimenti si fanno solo dei casino, come ho potuto constatare con i miei occhi. Le ottime prestazioni con la maglia del Ravenna poi attraggono le attenzioni e l'avance di un club prestigiosissimo come l'Alessandria. E lì proprio si è creato quel lungo rapporto che vi ha portato fino ad oggi, con una piccola parentesi con la maglia del Forlì. Sì, sono arrivato ad Alessandria dopo un periodo qui a Melfi che mi hanno dato, infatti ringrazio, e mi hanno dato la possibilità di allenarmi e di poter restare al passo con gli altri. Poi a novembre ho avuto l'occasione di andare ad Alessandria e di mettermi in mostra lì, che sinceramente non pensavo, vedendola con gli occhi da fuori, fosse una piazza così importante. Poi ho avuto la parentesi a Forlì, sempre per la questione giovani sulle fasce, ho dovuto fare un anno in esilio, diciamo. Sono ritornato poi ad Alessandria quando c'è stata questa nuova società ed è stato il top perché avevano voglia di crescere e di migliorare. Difatti si è visto fino in questi tre anni, fino all'ultimo anno, siamo perfino riusciti ad arrivare in semifinale di Coppa Italia col Milan, che è la mia squadra del cuore. Ecco, volevo chiederti proprio questo perché dopo una grandissima stagione da ricordare, perché dopo l'oro arrivato in Corea con la nazionale azzurra alle universiadi, è arrivata anche un risultato prestigiosissimo della semifinale di Team Cup, la doppia semifinale contro il Milan. Cioè davvero avete fatto parlare tutta Italia in quel periodo. Se ci ricordi anche il vostro cammino che vi ha portato fino alla semifinale contro il Milan, vi siete portati a casa anche il prestigioso scalpo di grandissimi club a livello nazionale. Sì, è stata un'esperienza unica e storica perché avevo già affrontato alcune squadre tipo il Genova o il Palermo, che avevamo già battuto col Ravenna, sempre in Team Cup, però qui siamo andati veramente oltre. Ricordo già dalla prima partita a Palermo che il mister Gregucci, che ci aveva dato una grossa carica, ci diceva guarda state tranquilli, divertitevi perché veramente ci abbiamo solo da guadagnare, chi c'ha da perdere sono loro. Infatti forse è stata anche personalmente una delle più belle partite che ho disputato. Da lì poi piano piano abbiamo preso coscienza e fiducia che in queste partite di Team Cup ci potevamo togliere qualche soddisfazione. In fin dei conti è stata così perché abbiamo affrontato il Genova ed è stata la partita più assurda, più spettacolare perché con l'uomo in meno siamo riusciti a battere una squadra di Serie A e a tenerli botta per più di tutti i tempi supplementari, ma anche prima siamo riusciti a tenerli botta. Dopo quella a Spezia abbiamo fatto un altro miracolo fino ad arrivare col Milan, dove è stata una partita che sapevamo tanto di essere arrivati già, non dico al fondo, però comunque abbiamo provato a dare il massimo, ma c'era troppa differenza, troppo gap, sia a livello fisico che tecnico, da parte mia, da quello che ho potuto constatare in campo. Tutta Italia però vi sospingeva davvero come fosse una favola, come se fosse il Leicester italiano, perché davvero alimenta il sogno di tutti, fa capire che davvero non ci sono limiti, ma se si affronta con i giusti valori, con la giusta determinazione e volontà, si possono realizzare cose inimmaginabili. Sì, è quello che pensavo io, dicevo, è stato bello vedere tanta gente che comunque ti fava per noi e ho tanta gente che si immedesimava in noi, perché comunque essendo rispetto a club così importanti una piccola realtà, lasciava sognare un po' tutti. Ed è quello che forse nei giovani di adesso avviene poco, perché si sogna poco e quando magari delle volte i sogni sono dietro l'angolo e possono realizzarsi da un momento all'altro. Ed è stato un po' il nostro caso, perché il mister ci ha aiutato tanto a sognare, a farci vivere questa favola. A proposito di sogni, per te è stato un sogno perché hai dichiarato in un'intervista poi soprattutto anche alla nostra redazione, dalle scale del Milan Club alla scala del calcio. Sì, è la verità, perché sono cresciuto a Covacciato su una scaletta lì ad Avigliano del Club Milan e stavo lì a guardare tutte le partite, tutte le domeniche, facevano la fila con i miei compagni di scuola o di squadra lì ad Avigliano. Da lì poi vedermi lì a San Ziro mi sembrava tutto strano, infatti dicevo con la mia ragazza mi sembra strano, ancora non riesco a realizzare anche una settimana dopo che sono stato in uno stadio così bello contro il mio Milan, anche se non era nel momento migliore. C'è da dire la verità. Immagino che è stata un'esperienza, un sogno ad occhi aperti, hai chiesto la maglietta a tutti quanti, ti hai fatto le foto con tutti i calciatori? No, foto poche, però la maglietta l'ho chiesta a tutti, anche se non ho recuperato un gran che è giusto qualche maglietta, però fa sempre un piacere avere un bel ricordo. Mi sarebbe stato bello averla potuta incontrare qualche anno fa dove c'erano campioni veri come Maldini, Kakà, Pirlo, sarebbe stato il top, però pazienza, è già un piccolo sogno che si è realizzato. Sei finito pure su Calciatori Brutti in senso positivo perché non gli hai fatto toccare una palla al giapponese Honda. Sì, me l'hanno girata l'immagine, infatti pensavo per tutt'altro, invece è stata una cosa simpatica e carina. Per fare chiarezza sono quelle fanpage che stanno prendendo davvero piede in questo periodo storico, appunto calcistico, è una pagina molto goleardica che ha preso di mira non il nostro Roberto, ma che su che onda è il calciatore del Milan perché in occasione del match di andata Roberto non gli ha fatto toccare davvero una palla. Senti, Roberto, abbiamo parlato della semifinale della Team Cup, ovviamente del tuo grande sogno, poi con la maglia dell'Alessandria avete centrato i play-off, però purtroppo è arrivata l'eliminazione con il Foggia. Però la squadra che avevate l'organico era davvero una squadra importante, tutti gli addetti ai lavori la giudicavano, la descrivevano come una squadra che fosse già pronta per la Serie B. Che cosa non è funzionato poi? Ma siamo arrivati alla fine che a livello fisiologico, anche involontariamente, ci aveva tolto quasi sicuramente la Coppa Italia e la Team Cup, anche perché ci ritrovavamo a giocare di sabato con il Bassano, con tutti i rispetto, e il martedì con il Milan. La testa era altrove. La testa, vuoi o non vuoi, un pensierino al Milan la faceva. E quindi siamo arrivati alla fine con qualcosina in meno. Poi abbiamo incrociato il Foggia, che era una squadra che mi ha impressionato molto, perché in dieci anni di Le Capron non avevo mai trovato una squadra così forte tecnicamente nel palleggio, e anche per mentalità, perché veramente sono impressionanti. Poi con il pubblico che fa anche una buona parte con gli arbitri, con tutto, anche con i giocatori, aiuta, ecco. Giocare magari ad Alessandria con 4-5 mila persone, giocare con 20 mila Foggia cambia, molto. E si è conclusa poi da poco la tua esperienza con l'Alessandria. Era finito un ciclo, era arrivato il momento di cambiare? Sì, ho avuto questa occasione a Catanzaro, anche se ero molto legato ad Alessandria, anche perché è stato il club forse più importante dove ho raggiunto e superato le 100 partite. Mi è capitata questa occasione tramite il direttore del Catanzaro e non ho esitato, anche perché stando giù a Catanzaro ho avuto modo di vedere con i miei occhi che è una piazza importante, che ha fame di calcio. e inoltre mi faceva piacere tornare vicino a casa, che visto che sono molto legato alla nostra terra è un di più. Hai trovato subito squadra, magari avresti pure potuto aspettare un po' di più, quindi ti chiedo perché subito la scelta di Catanzaro ti ha subito convinto il progetto. Sì, proprio perché, come ti ho già detto, ho avuto modo di vedere con i miei occhi che c'è una piazza importante, anche nell'ultima partita con Melfi ho visto che c'erano 7-8 mila persone, è una piazza storica e sinceramente non me la sentivo di rifiutare, anche perché sai cosa lasci ma non sai cosa trovi, quindi magari avrei potuto trovare anche di meglio, però era una bella occasione, non ne valeva la pena. Senti Roberto, ora che si fa vacanze, si riposa e poi si riparte subito la prossima stagione, probabilmente il girone C di Lega Pro. Sì, ora mi godo un po' le vacanze, ancora qualche settimana con la mia famiglia, e poi ho qualche esame all'università purtroppo, ma bisogna portarla avanti. Perché gli esami non finiscono mai. Bisogna portare avanti anche questo impegno perché è una cosa che ho scelto di fare io, ma più a livello personale, perché avendo tante ore libere al mattino mi spiaceva lasciarle così buttate al vento. E poi dopo si penserà a questa nuova avventura a Catanzaro. Esce poi allora Roberto Sabato, davvero un esempio sia dentro che fuori dal campo. Siamo arrivati purtroppo alla fine della nostra ultima puntata della seconda stagione di Sport Inside, quello che mi preme chiederti alla fine, tu non hai mai giocato in una squadra lucana, a parte quella piccola parentesi che ci dicevi prima, che il Melfi ti ha permesso di allenarsi con loro. Ora ovviamente no, perché hai appena firmato un biennale, ma nel futuro magari ci sarà la possibilità di vestire la maglia di una squadra lucana? A me piacerebbe molto, infatti già quando sono tornato a Potenza con il Ravenna, avevo la pelle d'occa anche perché c'era quasi tutta la mia famiglia, più di 50 persone allo stadio, c'era mezza vigliano e in più mi ha fatto molto piacere ricevere quando sono uscito al novantesimo per Crambi, ricevere l'applauso di tutto lo stadio di Potenza. Era una... è stata... anche se non ho mai giocato qui, ho quasi sempre d'avversario a livello giovanile, mi ha fatto un immenso piacere vedere la gente, tutta questa accoglienza, questo calore. E a maggior ragione mi farebbe piacere un domani ritornare a giocare, quando meno lottare per una squadra della nostra terra. E ti aspetta, ti aspetta tutto il popolo lucano, lo aspettiamo anche noi di nuovo nelle nostre trasmissioni sportive e alla nuova TV, questo quando vuoi sempre, Casalto, ti aspettiamo con piacere. Io ti ringrazio davvero Roberto per averci permesso di concludere con il botto, grazie alla tua ospitata la nostra seconda stagione di Sport Inside, grazie mille, buona estate, in bocca al lupo per la tua nuova avventura con la voglia del Catanzaro. Grazie a voi per tutto e crepi il lupo, poi speriamo di vederci presto perché mi fa un immenso piacere essere qua, poter delle volte essere anche come esempio per qualche ragazzo più giovane, poter dare un buon esempio. Bisogna cercare di farlo il più possibile, soprattutto noi che siamo visti, abbiamo un'immagine importante. E con questo telegramma finale di Roberto Sabato ha racchiuso proprio lo spirito della nostra trasmissione, quello di dare vetrina, visibilità alle importanti realtà lucane, ma che possano anche fungere da modello per un intero popolo della Basilicata. A me non mi resta che ringraziarvi per averci accompagnato nel corso di queste due stagioni, più di 80 puntate di Sport Inside sulla nostra passerella, avete visto davvero sfilare le maggiori realtà di tutte le discipline sportive lucane, ma soprattutto i maggiori protagonisti più di spicco del nostro parterdo ira a livello sportivo. I ringraziamenti finali ovviamente alla regia, il lavoro incessante grazie al lavoro di Gerardo Pomponio e di Gianluigi Santoro, del nostro editore Donato Macchia, ma pure di tutta la nostra redazione sportiva con il caporedattore Donato Sileo e Luigi Santopietro, ma soprattutto un grazie dal vostro Manuel Scalese. È stato davvero un piacere provare ad accompagnarvi nel corso di tutte queste puntate del nostro Consueto Focus a 360 gradi. Allora, buonestate di nuovo a Roberto, buonestate anche a voi, ci rivediamo la prossima stagione sportiva. Ciao! Autore dei sottotitoli a cura di QTSS